Grazie Un applauso al servizio per quelli che sono sul palco, intanto un applauso, poi ci sarà chi rappresenta per me. Allora, vi rubo un solo minuto per incodurre il nostro ospite principale, uno dei grandi ospiti, però intanto per ringraziare tutti voi, lo staff dell'Incordurna Mix Festa, il Comune, la Lort, la Feltinelli, Accademia, Officine, perché questo festival si staranno un grande successo nonostante tutto. Detto questo, questa è una serata molto speciale, anche per me sono veramente emozionato, mi ha proprio chiesto di essere qui sul palco a introdurre il nostro cittadino onorario che quest'anno ci regala un evento unico in Italia, in Europa, un grandissimo concerto. Un applauso per Max Weber! Max Weber! Grande Max! Potete fare una stella con adesso, se la merita! Grazie Max! Allora, il mio pubblico è quasi finito, voglio solo ringraziare Max per questo straordinario concerto e gli voglio chiederlo, lo dico in italiano, proverò con il mio inglese stentato, che tipo di serata ci aspetta, quale concerto ci aspetta stasera, che è molto diverso da quello dell'anno scorso. Max, io voglio solo dire che questo, che tipo di concerto ci vediamo oggi, che tipo di musica? Perché abbiamo stato molto diverso da l'anno scorso. Allora, oggi, concerto fantastico! Perché siamo in Cortona! Allora, we are going to play some classic soul, rhythm and blues songs for you. Then, of course, we have a special surprise for you. That's not so much of a surprise, but a special guest. More about that later. So, even though you're in chairs, feel free to express yourself. Allora, naturalmente ci sarà musica classico, rhythm, blues, soul, ma anche se siete a sedere, ci sarà anche un'oscente speciale, che è un po' il segreto di Puccinella, diciamo, in Italia, lo sappiamo tutti, ma ne parleremo dopo. Anche se siete a sedere, siete liberi di alzarvi, ballare e lasciarvi andare a ritmo. Allora, grazie! Buon appetito a tutti! Ecco! 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 Grazie a tutti 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 Bruce Bruce Grazie a tutti 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 Grazie a tutti